Benvenuto al professor Riccardo Valentini, Università della Tuscia, benvenuto a Rai News 24. Il professor Valentini ha partecipato insieme ad altri esperti a quel comitato internazionale intergovernativo sui cambiamenti climatici che ha ottenuto il riconoscimento del Nobel per la pace nel 2007. Professor Valentini, questi temi li sentivamo affrontati in Polonia a Katowice. E quali sono le maggiori urgenze? Si tratta intanto di un problema che si è molto accelerato. Quando noi abbiamo scritto il primo rapporto non pensavamo che fosse così veloce il cambiamento. Pensiamo appunto che gli ultimi dieci anni sono stati gli anni più caldi di tutto il secolo. Quindi siamo già dentro il cambiamento climatico, dentro questa sfida che coinvolge purtroppo tutta l'umanità. Non c'è un paese che si può salvare da questo. Oggi abbiamo delle sfide importanti. Dobbiamo decarbonizzare la società. Cosa vuol dire? Ridurre le emissioni di combustibili fossili. Quindi agire su tanti settori, dall'energia, ma non solo. Non è solo un problema dell'energia. Dobbiamo modificare il nostro modo di muoversi, la mobilità. Adesso per esempio abbiamo la possibilità di avere auto elettriche, di poter anche fare una condivisione delle macchine, il famoso car sharing. Ci sono tante iniziative, ma che riguardano anche per esempio il cibo. Quello che noi mangiamo, sembra paradossale, ma l'agricoltura è il terzo settore per emissioni di gas sera. È veramente un problema che va visto a 360 gradi, non soltanto quindi parlare di energia. Professor Valentini, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottoscritto un documento insieme ad altri capi di Stato e di Governo dove si sostiene che il cambiamento climatico è la sfida chiave del nostro tempo e si dice che la nostra generazione è la prima che sperimenta un così forte e rapido aumento delle temperature in tutto il mondo e anche forse l'ultima che può intervenire davvero per combatterlo su scala planetaria. In particolare abbiamo visto qui da noi in Italia effetti devastanti anche nell'ultima stagione. Che cosa comporta dal punto di vista della protezione civile e dai costi che affrontiamo il cambiamento climatico? I modelli climatici chiaramente ci dicono che ci sarà una maggiore variabilità con maggiori estremi. Cosa vuol dire? Ondate di calore, ci dobbiamo aspettare, già ci sono state. E anche ondate di siccità ma anche di eccesso idrogeologico, quindi di piogge intense. E chiaramente un paese come il nostro che a pochissima manutenzione è molto a rischio. Quindi la protezione civile sarà sempre più impegnata. Ecco perché dovremo cominciare a pensare anche nel programmare nuove infrastrutture, nuovi insediamenti a quello che sarà il clima del futuro. Purtroppo le leggi oggi dello Stato si basano su dati vecchi del clima. Quindi dovremo anche aggiornare questo modo di ragionare il futuro, guardare quegli scenari futuri. Quindi cercare il più possibile di adattarsi alle possibili fenomeni catastrofici che ci potrebbero essere. Professor Valentini, voi gli scienziati studiano questi fenomeni naturalmente su ampia scala. E su ampia scala non soltanto dal punto di vista geografico ma anche temporale, su un arco di tempo rilevante. Quanto però questo tipo di fenomeni, lo ricordava prima, sono legati a comportamenti non soltanto di grandi attori dei paesi o di attori industriali, ma comportamenti individuali, nostri, di tutti i giorni? Io credo che la grande sfida sia proprio questa. Al di là adesso è importantissima la conferenza di Katowice per fissare le regole comuni per tutti. Però c'è un passaggio da fare che è quello di arrivare al cittadino, arrivare veramente ai nostri comportamenti. Questa è la grande sfida e possono giocare un ruolo molto importante le regioni, i comuni, le associazioni di cittadini. È una sfida complessiva di tutti i settori della società, dell'industria ma anche dell'individuo. Quindi di più dobbiamo fare. Non stiamo facendo molto su questo, facilitare i cittadini anche a vivere in modo più sostenibile. Questo ancora non lo siamo riusciti a farlo con le politiche che abbiamo messo in campo. Professor Valentini, un'ultimissima considerazione relativa all'impegno ambientalista, lo hanno detto un po' tutti, di Papa Francesco. E quanto contribuisce dal punto di vista di uno scienziato a diffondere una consapevolezza legata appunto ai problemi che la scienza e il pianeta affrontano? Guardi, Papa Francesco è stato veramente importante. Non dimentichiamo che l'accordo di Parigi è avvenuto pochi mesi dopo, la pubblicazione dell'incirca Laudato Si. Ed è stato, a detta di tutti i commentatori, anche di noi scienziati, forse l'elemento che ha maggiormente convinto i governi a prendere quella strada. Quindi Papa Francesco, la Chiesa, svolge un ruolo importantissimo. Io sono stato due settimane fa all'Accademia Pontificia, che sta lavorando molto sui temi di cambiamenti climatici, del futuro dell'umanità. Abbiamo bisogno anche della Chiesa. Lo dico io che non sono un religioso, ma abbiamo veramente anche come scienza bisogno di loro per questa sfida. Grazie, Professor Riccardo Valentini, per averci accompagnato nell'analisi di questo tipo di problemi in occasione della conferenza che si sta tenendo a Katowice, in Polonia, sul riscaldamento del clima. Grazie.